Un vistoso nastro bianco e rosso delimita una parte dell'aula magna del Tribunale di Vasto che è stata messa in sicurezza per evitare che parti dell'intonaco che si stanno staccando dal solaio possano colpire qualcuno. Questa mattina nel corso di un incontro promosso dal Lions Club Vasto Host nell'aula magna del Tribunale l'area messa in sicurezza non è passata inosservata. I numerosi bambini delle scuole cittadine intervenuti hanno dovuto prendere posto tra le sedie collocate più lontane dall'area circoscritta. per evitare qualsiasi pericolo. Per ora il solaio sembra essere danneggiato solo in piccola parte ma sarà necessario intervenire al più presto per ripristinare il pieno uso dell'aula magna.